Balzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo. 51 nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Dalle città ai paesini, dalla costa alle aree interne riguardano l'intero territorio regionale. 20 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 11 a quella di Pescara, 10 all'Aquilano e 8 al Chietino. Mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza. Il paziente più giovane ha due anni, il più anziano 93. Non ci sono decessi recenti. Il bilancio delle vittime è fermo a 477 aumentano le terapie intensive. Tra i nuovi casi ve ne sono 7 a Pescara, 4 a Rocca Casale, paesino dell'Aquilano, in cui vivono 650 persone, 3 a Colonnella, a Giulianova e a Martinsicuro e altrettanti a Rocca Santa Maria, paesino di 500 abitanti delle montagne Teramane, dove si erano registrati numerosi contagi. Due a Roseto degli Abruzzi, a Bellante e a Vasto. Gli attualmente positivi, 47 in più rispetto a ieri, salgono a quota 817. 58 pazienti, più 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 5, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva. Mentre gli altri 754, più 38 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 3.023, più 4 rispetto a ieri. Il totale abruzzese dei casi arriva a 4.317, 616 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.019 in provincia di Chieti, 1.838 in provincia di Pescara, 808 in provincia di Teramo, 33 fuori regione e per tre sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 192.553 test, 1.626 nelle ultime 24 ore.